amici abbiamo per voi delle invenzioni incredibili amici i primi 3.000 che chiamano 30.000 3 che chiamano vi offriamo il gratis tutto il materiale del nostro catalogo incredibili amici fai vedere fai vedere buonasera sono la signora Olga vi aspetto a Omignano l'8 luglio un saluto a Bruno di provincia di Salerno che tra l'altro è anche il mio compleanno è tutto il comitato e anche l'Andrea tutti quanti e lo staff ma vaffanculo ciao amici la generità non ha confini il pera patate automatico con questa invenzione diventeremo wiki stra wiki amici grazie grazie